mancano ormai solo due giorni alla chiusura di questo mese, il primo mese di professioni trader ma al momento io non ho operazioni in macchina quindi in questo video andremo a vedere, a ripercorrere queste prime settimane insieme andiamo a vedere quali sono state le prime operazioni, l'andamento del conto quindi il diario di trading e le possibili nuove operazioni ben ritrovato con questo appuntamento, sono sempre Damiano Zito Price Action Trader indipendente, membro attivo della community di Airforex qui davanti a me ho la MetaTrader collegata al conto di IG che ho dedicato a questa rubrica conto che al momento si ritrova praticamente fermo senza posizioni in atto come dicevo poco fa possiamo andare a vedere al momento come effettivamente diciamo sul diario di trading sono fermo alle prime due operazioni quindi la prima operazione era andata short quindi andata poi a costo, una seconda operazione sempre un long sull'euro dollaro che è stato il protagonista di questa rubrica come trading operativo quindi due operazioni che si sono quasi equiparate quindi il primo short che dal punto di vista economico ha avuto questi risultati anche un'operazione con un minimo di interessi attivi mentre la seconda operazione è stato un long che ha avuto anche degli interessi ma questa volta negativi che hanno diciamo leggermente inficiato anche sul risultato operativo quindi la situazione al momento del conto è la seguente siamo, sono fermo e con una leggera, come dire, una leggera perdita sono 0,17% in negativo che quindi su questo conto equivalgono a 17 euro circa bene, quindi torno sui grafici questo è il grafico appunto dell'euro dollaro euro dollaro che giusto per ripercorrere un po' quello che ha fatto questo mese quello che ho fatto anch'io io avevo provato a tradare quindi andando short sotto il livello di 1,050 operazione che si è conclusa con col costo operativo più o meno su questi livelli 1,0705 e successivamente dopo la chiusura settimanale la conferma operativa sul daily sono andato long più o meno da questi livelli e poi ho chiuso a 1,0830 il mercato poi, come vedevamo già nello scorso video aveva dato un'ulteriore conferma ma per quanto mi riguarda non ho fatto niente perché eravamo su zone di possibile stop quantomeno nel breve eravamo vicini praticamente a questo punto di swing sul settimanale c'era comunque un livello non era secondo me ancora non sono ancora maturi i tempi per ritornare long sul mercato dell'euro se andiamo a vedere in effetti dal 17 novembre quindi da quando il mercato ha poi creato questo nuovo trigger operativo che è una FTW doppio minimo higher close in realtà il mercato è rimasto un pochino più compresso tra le altre cose abbiamo visto come effettivamente la dinamica che sta portando su che ha portato su il mercato studiandola da questo minimo massimo era una dinamica che adesso portava appunto diciamo confluiva 1,0950 con il 261,8 quindi preferisco io preferisco al momento conoscendo anche questo mercato qualcosa di più qualitativo quindi magari un ritorno su queste zone a questo punto l'area 1,0850 è l'area veramente clou l'area chiave per poter fare un trade long sull'euro vediamo comunque siamo appunto su questi livelli ci sta che il mercato tra il 261,8 e il 211,80 che sono rispettivamente per noi di Airforex il nostro T5 e T4 il mercato possa anche lateralizzare come è possibile anche che dopo una fase appunto di congestione attorno a questi livelli insomma possa fare appunto uno spike a ribasso anche profondo cioè andare anche a testare la zona un po' più in basso l'1,08 insomma il mercato può farlo tutto fattibile e quindi poi valutare valutare dei long quindi questa diciamo questa è la situazione sull'euro dollaro abbastanza simile alla sterlina che è stata più forte sterlina che adesso è arrivata su un livello dove effettivamente qualunque posizione long andrebbe secondo me incassata chiusa da qui in effetti potrebbe potrebbe avvenire un pullback quello che poi effettivamente potrebbe farmi entrare nuovamente long dopo ovviamente un trigger sul daily una dinamica confermativa sul daily ma il mercato che stavamo monitorando che stavamo monitorando la scorsa volta in realtà è il mercato dell'oro un mercato che è sicuramente molto forte aveva questo settimanale quindi un settimanale che è stato triggerato proprio la scorsa settimana questo trigger è un FTV power sul settimanale ha triggerato anche il mensile e aveva appunto questo diciamo questi livelli diciamo questa confluenza col 2034 ma a me piace molto anche l'idea che questo mercato possa andare un po' più in alto visto il mensile di cui parlavo poco fa un mensile che ha appunto questo minimo massimo è una confluenza intorno del 22 intorno al 2070 che equivale più o meno con questo massimo quindi direi interessante e se andiamo a vedere diciamo sono dei massimi questi sono dei massimi che effettivamente il mercato ha sentito in maniera in maniera importante sono i massimi storici il massimo storico è questo siamo a 2082 70 comunque mercato sicuramente bullish mercato molto forte mercato che per quanto mi riguarda è only long ma che ancora non ho acquistato infatti la scorsa volta era registravo il 21 quindi il 21 novembre mi ritrovavo con questa situazione c'era stata questa questa FTV che non ho non ho tradato potevo potevo tradarla ma ho atteso un pochino sul sul 6 ore poi mi aspettavo in realtà che da qui già ci fosse un primo pullback e poi in realtà dopo mi ricordo che ho visto questo questo candelone già nel pomeriggio prima della sessione americana o comunque durante tra le 14 e le 17 durante la sessione c'era effettivamente la possibilità che su questi massimi precedenti il mercato potesse tornare giù e quindi avevo segnato una buy zone che è appunto questa quest'area verde dove poter riacquistare il mercato però la scorsa settimana sinceramente non ho fatto non ho fatto operazioni non mi ha dato effettivamente qui un uno spunto questo è il 6 ore ma se andiamo sul giornaliero non mi ha dato uno spunto chiaro qui rimaneva e rimane o meglio è rimasto inside fino alla giornata di ieri questo è il 27 quindi lunedì scorso se andiamo a vedere questo qui è un un come dire un un cluster ok quindi sono delle barre che sono rimaste in inside abbiamo tre candele inside che sono quella del mercoledì giovedì venerdì quindi tutta la settimana è rimasta inside della candela del martedì scorso quindi al momento al momento cosa potrebbe succedere qui magari oggi rimane ancora forte oppure viene giù quindi magari rientra dentro si fa un giretto un pochettino più in basso ma potrebbe poi dare effettivamente la dinamica confermativa anche sul sul 6 ore per per un long la diciamo la dinamica potrebbe effettivamente verificarsi secondo me nelle nelle prossime ore nelle prossime giornate insomma oggi è oggi è martedì quindi nel giro nel giro di veramente di di poco adesso effettivamente dovremmo essere in una situazione per cui il mercato se non sbaglio si è al esattamente al t2 quindi il 130 90 della dinamica settimanale quindi che da qui quindi il livello siamo sui 2010 2015 che da queste chiusure che corrispondono al t2 settimanale lui possa ancora avere una leggera flessione secondo me abbastanza fattibile tra le altre cose vedendo un po' come come è adesso il mercato abbiamo l'euro quindi abbiamo l'euro che per quanto mi riguarda potrebbe e serve che a questo punto dia come dire un minimo di ossigenazione anche lieve perché comunque è rimasto è rimasto forte così come la sterlina sterlina però anch'essa è arrivata su una zona di possibile pullback abbiamo e che è stato poi diciamo il motivo per cui non ho fatto il trade della scorsa settimana un dollaro yen che è correlato inversamente con con l'oro che è stato debole quindi uno yen forte che era il motivo per cui tra gli aspetti negativi di valutazione del trade ho tenuto molto in considerazione nel senso che non mi sembrava a livello di timing il momento giusto per entrare sul loro quindi ho dato comunque ho dato peso a questo a questo fattore conoscendo un po' il mercato il mercato diciamo lo yen è stato sicuramente molto forte rispetto al dollaro americano l'oro non è non è sceso comunque non si è mosso tantissimo al rialzo anche se si è fatto qualche dollaro al rialzo però insomma rimane rimane ancora molto interessante il dollaro yen effettivamente dopo aver preso diciamo questa derivare in bassista quindi aver rotto il livello di 148.80 che è un livello molto interessante per per il mercato perché qui questo livello è un livello che in qualche modo era il livello da tenere per il long anche nelle scorse settimane e adesso rimane come dire lo spartiacque di breve ieri ci ritorna giù dopo averlo recuperato e vediamo vediamo come si comporta nelle prossime ore però a prescindere da questo per quanto riguarda tornando appunto all'oro direi che se effettivamente questo mercato è forte dovesse arrivare anche un minimo di rafforzamento di dollaro americano non credo che l'oro possa ritracciare tantissimo e se lo fa insomma andrò comunque a capire la dinamica dal punto di vista operativo qui cosa potrebbe avvenire potrebbe avvenire che nel giro di uno due giorni appunto questo vada giù potrebbe anche avvenire che lui vada dritto verso il 2030 e a quel punto a quel punto potrei se lui fa così due giorni tre giorni va su poi a quel punto magari fa una cosa del genere a quel punto rientro su un ulteriore swing se guardiamo la dinamica nel breve appunto qui abbiamo un mercato che dal punto di vista di swing nel brevissimo diciamo nel breve non nel brevissimo quindi nel daily ha fatto questa dinamica quindi questo minimo questo massimo questo è uno swing questo è un altro swing quindi l'ultimo swing è in zona appunto questa zona qui è in zona 1960 comunque un livello diciamo un livello supportivo importante e comunque questo è il mercato che mi piaceva mi piaceva di più e sul quale effettivamente sto sto aspettando la conferma la conferma buona e quindi fondamentalmente ho cercato il buon timing su questo mercato si poteva come dicevo già la scorsa volta potevo entrare long potevo entrare long anche da qui anche se non l'ho fatto ma si poteva entrare long per quanto mi riguarda anche alla rottura del weekly però come vediamo non ha fatto non ho fatto molto ecco questo questo è il senso però visto che siamo alla chiusura del mese volevo fare un paio di prospettive su due trade che non ho fatto questo mese uno vado sull'indice S&P che è l'indice appunto americano per per eccellenza quindi l'S&P 500 che raggruppa le 500 aziende più capitalizzate d'America è un mercato che al momento chiaramente si trova sui 4550 che è proprio qualche settimana fa volevo stavo valutando per un long non ho avuto forse la prontezza di inserire il buy stop nel senso che mi ricordo stavo valutando l'idea di di mettere un buy stop su su questo mercato e e poi è partito quindi ci sta effettivamente l'allungo è venuto proprio martedì 14 mi ricordo stavo registrando l'episodio di professioni trader e questo era il mercato che stavo che stavo valutando comunque ci sta succedendo anche questo dal punto di vista di dinamica quindi siamo al al 10 volevo solo capire se 10 novembre quindi 13 novembre andiamo a vedere un po' qual era come si era poi strutturata questa questa dinamica nel brevissimo ok perfetto ecco qui avevamo esattamente quindi io registravo più o meno durante la formazione di questa candela successivamente dopo le 13 il mercato il mercato è esploso comunque la mia idea era inserire un buy stop sopra questi livelli buy stop che sicuramente avrebbe avuto il suo come dire il suo beneficio dal punto di vista di quindi di retrospettiva direi che qui c'è stato questo allora questo è un indice azionario rispetto al forex i ritracciamenti sono spesso non non molto intensi soprattutto quando si arriva da una certa da una certa forza comunque è abbastanza tipico del del mercato tant'è che lavoro spesso con il buy stop e il sell stop sugli indici comunque ci sta niente di niente di particolare è un mercato che è partito subito quindi un movimento che è andato e che adesso cosa ci sta dicendo ci sta dicendo questo mercato che effettivamente è un mercato acquistato se qui c'erano dei dubbi sono stati poi confermati adesso rispetto a questo questo swing siamo anche qui al 4550 al 261,8 di questo di questo trigger operativo come swing e come area di ultimare di acquisto abbiamo questa questa zona ai 4500 una zona dove il mercato potrebbe tornare a fare un come dire un po' di ritracciamento e poi ripartire magari al rialzo e andare verso andiamo a vedere un po' settimanale ecco il 4006 sicuramente in prima battuta ma poi abbiamo la zona di 4007 che se il mercato effettivamente continua continua questa sua fase secondo me sono abbastanza raggiungibili i mercati i mercati azionari ci hanno abituato a movimenti veramente a volte imprevedibili ma vediamo che quando parte parte con long il mercato è inarrestabile l'altro mercato quindi l'altra retrospettiva era il mercato del petrolio mercato che non ho tradato ma che effettivamente aveva dato due occasioni la prima era appunto inizio quindi il 6 novembre quindi inizio mese aveva un mercato che dal punto di vista di dunque siamo qui abbiamo detto questo questo era il 3 novembre aveva fatto questa questa outside bar e anche un FTV e quindi 3 novembre andiamo a vedere 3 novembre siamo fondamentalmente qui aveva chiuso sotto 82 ok ora mi ricordo il ragionamento che avevo fatto in questo caso era il fatto che il mercato era vicino a quest'area era vicino a quest'area qui quindi un'area di possibile acquisto e l'idea di andare self-stop non mi piaceva perché qui poteva avvenire come dire una falsa rottura e un recupero cioè la rottura degli 80 è un recupero veloce che non avrei gestito serenamente nel giornaliero quindi però c'era c'era un po' di spazio a meno fine 78 va bene ho voluto attendere una conferma in verità però quando questo diciamo è una cosa che sto dicendo a me stesso effettivamente nel momento in cui poi il lunedì c'era una insight dopo dopo una sidebar effettivamente l'idea di tradare il self-stop qui ci stava ci stava tutto magari potevo potevo fare una cosa del genere quindi anziché mettere uno stop molto come dire vicino vicino anche a questi massimi avrei potuto fare qualcosa tipo 86 ma anche 88 e 50 in realtà conoscendo un po' il mercato nel senso il mercato che può quando lo fa può dare anche volatilità l'idea mia era non voler vedere qualcosa del genere quindi un rottura e poi un recupero del genere quindi una volatilità di questo tipo non mi sarebbe piaciuto e quindi avrei chiuso quindi a costo minore effettivamente quindi l'idea di mettermi sopra quindi una volatilità doppia rispetto questo questo trigger era abbastanza plausibile anche mettersi qui a 87 non era non era male successivamente quando il mercato poi è venuto giù quindi effettivamente aveva rotto questa zona che era la zona questa era la zona di acquisto che non volevo in qualche modo vedere riprendere la parte del mercato questa zona qui effettivamente il mercato l'ha poi la rotta è tornato su e ha ridato un ulteriore conferma con questa mini pinbar che effettivamente se insomma un occhio attento qui probabilmente sono stato molto caudo perché la mia idea era prendere proprio in realtà il mio piano operativo prevedeva un trigger su questa area cioè ecco il punto era questo io volevo dopo la rottura di questo mi aspettavo un recupero un po' più forte e mi aspettavo o meglio quello che da piano avevo il mio piano era un trigger che testasse gli 80 al più 82 e quindi a quel punto l'avrei venduto il fatto è che qui non ci sia stato di poco il test degli 80 non mi ha fatto vendere da un punto di vista di retrospettiva è come se io fossi rimasto rimasto a B.E. ho rispettato quello che era il mio piano operativo cioè l'attesa proprio del questo caso era un livello diciamo un numero tondo gli 80 gli 80 dollari al barile la situazione non c'è stata quindi non si è verificata va bene va bene così operativamente al momento per esempio il petrolio è un mercato che vista la zona dove siamo arrivati per esempio è un mercato che sto invece guardando per sia long che short e dopo questa outside bar effettivamente al momento quindi abbiamo un inside qui 75 potrebbero nuovamente riportare un po' di rialzo rialzo che al momento non è non è confermato c'è stata da parte del prezzo questo diciamo questa dinamica quindi lui è venuto giù ha ritestato la zona di cui parlavamo prima ha fatto questa falsa rottura quindi recuperata in due giorni torna a ritestare la zona precedente quindi quella zona di domanda crea nella giornata del 22 un ribasso che recupera nuovamente e adesso sta come dire sta in maniera molto molto calma sta congestionando sopra questi livelli è chiaro che per quanto riguarda il il long qui bisognerebbe avere una chiara rottuna di questa zona quindi rottura rialzo magari qualcosa del genere quindi uno swing o qualcosa sopra i 77 diciamo i 78 sono 78 è il livello spartiacque per valutare nuovi long sul mercato del petrolio non è neanche una situazione piacevole per lo short perché dopo aver visto questo recupero poi nuovo tentativo zona 74 un ulteriore recupero in giornata sinceramente qua potrebbe rimanere come rimanere incastrato il mercato e quindi al momento la price action è un po' nel breve un po' contraddittoria bene io non ho ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la mia operatività abbiamo visto il diario di trading fondamentalmente mostra un mese con una leve flessione meno 0,17 siamo al 28 di novembre potrebbe potrebbe capitare un ulteriore trade da inserire nel diario del mese di novembre altrimenti andiamo sul prossimo che è l'ultimo mese dell'anno quindi dicembre 2023 ti ringrazio come sempre per aver visto il video fino alla fine ti ricordo di lasciare un mi piace o un commento sotto a questo video se non lo hai già fatto iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere i prossimi aggiornamenti ti ringrazio di saluto e soprattutto buon trading alla prossima di saluto di saluto di saluto Grazie a tutti